quindi devi fare la cacca 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 è la seconda volta che la perde adesso non la perde più la cacca la cacca la cacca Spermi proprio prima dello start Cioè Sono mega stanco eh Ma che a me mi è diventato duro Mi è diventato duro di bestia Eh Vi ho detto che mi è diventato duro Cazzo Allora è la mia bottiglia quella lì E' tosta è quella E' piccolosa Un bel passaggino E' piccolosa Il nostro eh Eh Noi Vaiissimo Ehi Di qua e peggio Di qua e peggio Noi 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 di qua vanno su a piedi ma lo proviamo di qua ma è tutto smosso eh ma è smosso questa qua non va bene se si è fermata cosa? ma l'altra l'hai caricata? si, l'ho cambiata e metti dentro quell'altra quella è già piena ma era piena o era vuota la batteria? no era piena magari era vuota la batteria eh la mia era scarica la batteria e qua l'ho quella caricata scusa spegnila tutta e riaccendila prova prendi tutta e riaccendi ma volevo andare lì a filmare ma no perché pensavo che andavi sta venendo indietro la scorpa eh sta venendo indietro no perché ho visto adesso che c'è mossa no perché ho visto adesso che c'è mossa che c'è mossa no perché ho visto che c'è mossa no perché ho visto che c'è mossa adesso gli lascio qua queste vado con la sua è in marcia è in marcia